Un'azione democratica sul portale del Movimento 5 Stelle dove 30.000 persone hanno detto che 4 senatori non devono più far parte del Movimento 5 Stelle. Siamo l'unica forza politica che utilizza uno strumento diffuso in tutto il mondo, che è il recall, cioè che mette in discussione l'elezione di un parlamentare proprio perché gli fa assumere la responsabilità politica di quello che fa. Noi siamo gli unici che lo facciamo e siamo sempre oggetto di critiche. Volevo vedere se per esempio, io che sono un cittadino campano, se avessi avuto la possibilità di utilizzare uno strumento così per Nicola Cosentino, se Nicola Cosentino stava ancora in Parlamento. La questione del PMV. La questione del PMV abbiamo già risposto. Comunque i parlamentari del Movimento 5 Stelle trasferiscono metà del proprio stipendio su un fondo per le piccole e medie imprese che è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo già precisato, noi non vogliamo gestire quei soldi, lo gestisce il Ministero con una procedura di evidenza pubblica. Noi aggiungeremo anche degli sportelli in tutte le province italiane dove gli imprenditori in difficoltà potranno andarsi a far fare le pratiche per accedere al fondo per il microcredito. Più di questo? Grazie.